Dal 1949, eccellenza italiana in ambito medico-sanitario, il Columbus Clinic Center ha nell'efficienza uno dei suoi punti di forza. Sempre all'avanguardia, sia in ambito terapeutico che tecnologico, la clinica Columbus ha scelto Epson per equipaggiare tutti i reparti con le soluzioni di stampa più efficaci presenti sul mercato. La clinica Columbus è una clinica completamente privata, ha solo convenzioni con enti assicurativi, opera nel settore della sanità con 130 posti letto, sono esclusivamente posti singoli. Abbiamo sei sale operatorie, una sala ibrida, tre posti di terapia intensiva, abbiamo reparti di risonanza, TAC, radiografie e mammografie. Abbiamo la necessità quindi di operare con un'amministrazione veloce e puntuale per preventivi da comunicare tempestivamente alle aziende assicurative. Abbiamo sentito la necessità di avere un supporto anche cartaceo presente nei vari uffici amministrativi e quindi abbiamo chiesto la collaborazione di Epson per svilupparci una situazione funzionale nell'ambito dei nostri uffici di competenza. Gli uffici dove sono state installate le stampanti sono prevalentemente dall'ufficio di amministrazione, ricovero, preventivi, acquisti e quant'altro. Sono stati inseriti anche nei blocchi operatori e quindi sono stati posizionati a ogni piano. Abbiamo posizionato una stampante dedicata, molto veloce e performante, ma la caratteristica che ci ha spinto a questa scelta è stata appunto quella di utilizzare getto d'inchiostro dove l'emissione di gas tossici è veramente pari a zero. Con il paziente sempre al centro dell'attenzione, la struttura sanitaria era in cerca di macchine la cui manutenzione non avesse alcun impatto sull'ambiente circostante. Per questo sono stati necessari i periodi di test con il supporto di un rivenditore esperto. La prima visita alla clinica Columbus mi sono reso conto delle difficoltà che avevano, quindi ho proposto al signor Bresciani, che era il mio interlocutore, di affrontare una prova rapida con il prodotto. Ha accettato, mi ha messo qualche macchina e poi effettivamente la cosa ha funzionato così bene, è stata accettata anche dal personale. Poi abbiamo proseguito la trattativa fino a portare a 100 macchine a disposizione della società. Credo di aver centrato totalmente l'esigenza della società. Diciamo che il problema era sicuramente un fatto tecnico, quindi anche di qualità del prodotto che avevano prima e dei fermi macchina. Quindi siamo andati su un prodotto Epson, dove gli interventi sono spesso fatti anche in remoto, perché riguardano più che altro un collegamento, ma mai una pulizia e tutto quello che segue da una macchina che lavora col toner. Oggi presso la Clinica Columbus sono presenti i stampanti Epson della serie Workforce Pro e Workforce Enterprise, grazie alle quali i vari reparti, le sale operatorie, gli ambulatori e il personale sono in grado di rispondere con la massima efficienza alle richieste dei pazienti e delle imprese convenzionate. Soluzioni all'avanguardia che confermano l'eccellenza del Columbus Clinic Center. Autore dei sottotitoli e delle caratteristiche di QTSS Grazie a tutti.